numero 5 ottimo set da fonduta con temperatura regolabile offre infinite possibilità per preparare tutte le varietà di fonduta possibili con formaggio svizzero o cioccolato il recipiente per fonduta è antiaderente molto facile da pulire questo recipiente è molto versatile può essere usato anche per tenere al caldo zuppe o spezzatini dotato di piedini in gomma antiscivolo e design stabile per la massima sicurezza ideale per 6 persone puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 4 questo robusto set in ghisa è adatto per un'ottima fonduta di formaggio di cioccolato e persino di carne la ciotola in ghisa smaltata trattiene il calore così il formaggio rimane fuso per tutto il tempo dell'aperitivo con i tuoi amici il bruciatore è regolabile ed utilizza carburante gel o alcolici metilati disponibili in tutti i migliori negozi di ferramenta oltre alla resistente ciotola sagomata in ghisa il kit comprende un fornello versatile e 6 forchette per fonduta in colorazioni differenti le forchette sono lavabili in lavastoviglie mentre la ciotola per la fonduta solo a mano se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 3 eccellente set per fonduta ideale per carne formaggi o dessert include 6 ciotole in ceramica perfette per frutta verdura pane e salumi e 6 forchette e cucchiai in acciaio inox splendidamente confezionato per renderlo una fantastica idea regalo questo set per fonduta è appositamente progettato per essere condiviso durante le feste comprende cucchiaini e ciotole per salse ed è appoggiata su un tagliere rotante in legno naturale in modo che gli ospiti possano farla girare e gustare con comodità la fonduta trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 2 set per fonduta elettrico fino a 8 persone a una potenza di 1400 watt adatto per fonduta o cioccolato nella confezione sono incluse 8 forchette in acciaio inox di alta qualità di colori diversi regolazione variabile della temperatura ottimo rapporto qualità prezzo il set migliore per una serata all'insegna dell'eleganza e della fonduta per una cena dal successo assicurato il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 1 set per fonduta in acciaio inossidabile con finitura in rame martellato completo di 6 forchette ottimo per una fonduta di formaggio o cioccolato la pentola per fonduta è lavabile a mano ottimo rapporto qualità prezzo magnifica idea regalo cene feste ogni occasione può essere arricchita da un po di fonduta un pezzo straordinario su ogni tavola acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione